Paolo Berrettini, responsabile piscina del Quanta Club. Iniziamo dal nuoto. Come sono strutturati i corsi? In piscina del Quanta Club abbiamo corsi sia per i prescolari che vanno dai 3 ai 5 anni che per gli scolari dai 6 ai 10 anni. Abbiamo poi delle proposte per i teenager, quindi ragazzi dai 12 ai 16 anni e abbiamo anche il corso di genitore bambino per i bambini di 2 anni per far cominciare i bambini a prendere confidenza con l'acqua e quindi poi spostarli in corsi dei prescolari. Quanta Club è anche agonismo? Com'è la situazione? Quali sono gli obiettivi per la stagione? La squadra agonistica del Quanta l'anno scorso ha portato a casa degli ottimi risultati perché ha portato ben tre ragazzi ai campionati italiani di categoria. Uno dei tre ha sfiorato per pochi centesimi la qualificazione ai campionati italiani assoluti. La situazione quest'anno è esattamente uguale all'anno scorso, quindi l'obiettivo è quello di portare il maggior numero di atleti ai campionati italiani. Le premesse ci sono buone, abbiamo acquisito dei nuovi atleti e puntiamo a migliorare quanto è stato fatto l'anno scorso. Non solo nuoto, ci puoi fare una panoramica degli altri sport acquatici che si possono praticare in piscina? Assolutamente, insieme al nuoto, quindi sia nella parte di corsi che nella parte agonistica, al Quanta Club abbiamo una squadra di pallanuoto, quest'anno iscriveremo al campionato la squadra dell'Under 13 che ha avuto un boom di iscrizioni molto importante, la squadra dell'Under 17 e la squadra master. Aggiungiamo inoltre la proposta per il nuoto sincronizzato, dove le ragazze possono incominciare a prendere contatto con questa forma di arte attraverso l'acqua. Ciao a tutti, sono Paolo Berrettini con il costume alla cuffia e vi aspetto in acqua!